Andiamo a vedere in questo video alcuni consigli per prepararsi per l'esame orale. Allora, la prova orale è una prova importantissima. Per il vostro voto ovviamente concorre la vostra media scolastica, concorrono i voti degli iscritti e concorre il voto orale. Il voto orale però è davvero importante perché è l'ultima prova che fate, la prova proprio davanti a tutta la commissione e la prova in cui potete dimostrare il vostro impegno. E ricordatevi che anche l'impegno all'ultimo spesso viene premiato e permette, l'impegno da parte vostra, permette a un insegnante che vuole aiutarvi di poterlo fare, perché altrimenti non ha proprio i mezzi e gli strumenti anche volendo per farlo. E ricordatevi che un insegnante che vi vuole aiutare c'è quasi sempre, non dico sempre, ma c'è quasi sempre. Ora, siete arrivati all'orale, avete quindi scelto l'argomento generale, avete scelto qualcosa, un argomento importante per voi, avete collegato bene l'argomento con le materie e spero che abbiate coinvolto i professori in questa scelta in modo attivo da parte vostra, facendovi vedere propositivi, chiedendo in maniera consapevole e non soltanto ricevendo suggerimenti e basta. Cosa può essere utile a questo punto? Preparare un buon prodotto, una buona presentazione e qui è importante l'efficacia, non il tempo che ci dedico. Si può realizzare un prodotto eccellente anche lavorando poco, posso realizzare una presentazione in PowerPoint ottima anche lavorandoci poco tempo, ma conoscendo le cose giuste. Su questo canale ci sono diversi video per realizzare un PowerPoint efficace. Dovete ovviamente studiare, ma soprattutto studiare e ripetere, imparare e ripetere quello che si vuole dire, anche nella propria mente, anche nei momenti di vuoto, mentre lavate i denti, mentre vi vestite, eccetera. Ora, imparare quello che si vuole dire non basta. Bisogna imparare ad esporle, cioè a dire bene quello che ho in testa. Una delle difficoltà degli studenti maggiori è avere le cose in testa, saperle, ma non riuscire ad esporle. Il modo in cui spiegate, in cui dite le cose, è molto importante per convincere i docenti del vostro impegno ed è il vostro studio. E quindi dovete fare esercizi per parlare in modo chiaro, fare le pause nei momenti più importanti, dimostrare che l'argomento vi prende, vi interessa, lo avete approfondito volentieri, anche se non è vero, ma dovete cercare di dare questa impressione. Come sempre, anche su questo, trovate diversi video nel settore del public speaking riguardo a questo, centrati proprio sull'esame di terza media. Un altro fattore da imparare a gestire è l'ansia. Ho fatto un video apposta. Gestire l'ansia e scaricare la tensione prima e durante l'esame è fondamentale. Quindi, ad esempio, parlare durante l'esame stando in piedi, muovere le mani, fare gesti, vi aiuta a scaricare la tensione. E prima dell'esame respirare, fare anche solo un minuto di respirazione controllata, vi assicuro che non è ridico, ha un effetto veramente positivo. E l'ultimo punto è quello della, che io chiamo della prospettiva mentale. Non pensate che l'esame sia soltanto un momento in cui dovete essere giudicati, un momento che deve passare il più velocemente possibile come una visita dal dentista. Pensate all'esame come a un momento dove potete esprimere voi stessi, dove potete dar voce a voi stessi, dove potete finalmente mostrare quello che avete fatto. Questo salto mentale vi permetterà di ottenere un risultato che va oltre tutte le componenti che abbiamo detto prima. Questi erano alcuni consigli per l'orale. Se volete che approfondisca degli argomenti specifici o volete altri consigli e suggerimenti, scrivetelo pure nei commenti qui sotto.